Policastro Bussentino, Salerno. Ieri sera al Cineteatro Tempio del Popolo si è tenuta la serata finale del Cantabimbo Antonietta la terza 2024, concorso canoro dedicato ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni, serata all'insegna del canto genuino e passionale. Ben 11 concorrenti che si sono alternati sul palco del Cineteatro. La serata è stata magistralmente diretta dalla bravissima Katia Santillo, che è anche cofondatrice dell'evento canoro. Una serata che ha messo a dura prova la giuria che ha dovuto giudicare ben 11 talenti in erba. Vincitrice dell'edizione 2024 la bravissima Chiara Scognamiglio, di Vibonati, con la canzone, Mi è scoppiato il cuore, di Mina, premiata dal sindaco Giovanni Fortunato, al secondo posto Rosmeri Mazzaro di Morigerati. Chiara dotata di voce splendida e di una notevole estensione degna di una cantante professionista ha frequentato la scuola privata di canto con Patrizia Pontillo, frequenta attualmente il liceo classico iscritta al terzo anno. A Chiara è andato il premio 2024, che consiste in una giornata di musica con Enzo Campagnoli, direttore d'orchestra, arrangiatore musicale e compositore italiano, presso la Ioseba Academy, a Roma, accompagnata da Katia. Ascoltiamo Katia Santillo in un breve intervento telefonico. Francesco, è stata veramente una serata eccezionale, 11 veramente talenti, ma talenti che hanno messo in difficoltà i giurati, insomma non è stato facile, tant'è vero che abbiamo avuto per la prima volta, dopo tanti anni che facciamo il Cantabimbo, un ex equo su tre concorrenti. Piano piano siamo arrivati ad avere la vincitrice, che è Chiara Scognamiglio, di Vibbonati, a 15 anni. Il primo premio è stato svelato, Chiara verrà con me a Roma nella Gioseba Academy, che è l'accademia del grande maestro Enzo Campagnoli, direttore dell'orchestra di Sanremo, direttore musicale degli spettacoli di Serena Autieri e di tantissime altre cose. Quindi Chiara ha vinto, verrà con me a Roma, dicevo, secondo posto invece per Rosemary Mazzaro, bambina veramente dolcissima, che invece si aggiudica da parte della direzione artistica l'incisione in una casa discografica e del brano di ieri sera e di altri due brani a scelta. Insomma è stato veramente straordinario, veramente meraviglioso. Poi ha vinto una canzone che voglio dire, cioè più di quello mi si è scoppiato dentro il cuore all'improvviso, credo che non ci sia manifestazione d'amore di intenti più bella. A Chiara Scognamiglio vanno i nostri auguri e in bocca al lupo per il suo futuro.